La tecnica è completamente diversa perché si lavora di gomiti. Questo l'ho sempre visto come un rifugio, arriva la guardia che c'è dentro qua, qui sotto qui. Questo è il camerone all'interno, il laghetto, ecco il laghetto conduce, lateralmente c'è un'altra tramoggia che conduce, questa è la sezione di una galleria sotterranea, che sbuca in Vale Belotta, quindi vediamo il laghetto, la zona rapiccata è il sotterraneo, rimane qui all'interno, ho aggiunto la frana, non spero che è crollato da questa parte, che ha creato questa frana, non è venuta bene perché l'ho proprio aggiunta brutalmente, così a mano, insomma, non è proprio reale. Grazie. 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 Grazie.